dobbiamo andare al refertore dobbiamo aprire una mappa esatto no, ho sbagliato ovviamente vabbè ok Andrea smirallega che tu abbia potuto unirti a noi grazie mio signore padre Grano, padre Thomas priore Frank questa è una delle stanze che mi piace il più, mi piace la resa calda fredda, perché alla fine sono comunque stanze terribilmente fredde alla fine comunque sono pietre, il muro bianco così enorme il pavimento però dà un tocco di calore di contrasto Simon Pietro rispose tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente quindi sta leggendo lui oh il Vangelo di Matteo meraviglioso quindi agli altri la minestrina noi abbiamo bella testa di porco là e Gesù gli disse beato sei tu Simone figlio di Giona perché né carne né sangue te l'hanno rivelato ma il padre è mio che è nel cielo per esempio vedi che in Dio e Gesù viene scritto in rosso no? come dire occhio a leggere occhio a porta rispetto no? una roba così quindi poi in blu forse è qualcosa un po' meno e il verde invece è proprio tranquillo cioè vuol dire forse è anche un segno di di amicizia no? che Piero ha usato il verde può essere invece questo si tiene distante no? quando dice queste cose io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa hai letto Matteo Andreas stia abbastanza in tutta noestà non molto annoisci scuoti la testa scuotiamo la testa e magari lasciamo a lui parlare e giochiamo ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli poi ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che gli era il messia tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato nei cieli al proposito padre Guernot avete mai letto qualcosa di Martin Lutero sta stuzzicando io no non posso dire che alcune incredibili idee sulla chiesa geniali a mio avviso il signore è la cena di vostro cadimano sta cambiando discorso se ben ricordo vi piacque molto la quaglia in occasione della vostra ultima visita la quaglia mio dio padre abate la quaglia è ottima ma non pensate che le idee di Lutero meritano di essere discusse il futuro della chiesa sconvolgendo le cose in un modo che non credo si sia mai visto prima Thomas voi vedete il valore nelle sue idee non è così mio signore non intendo offendere ma no non è così penso che è venuto anche e si sono tutti raffreddati fratello mattio giusto che nome appropriato cosa pensate di attacchi di Lutero la chiesa in merito alla vendita delle indulgenze parone vi prego di non coinvolgere gli altri fratelli in questa conversazione anche perché in teoria non possono parlare guarda lo sguardo guarda lo sguardo dell'etio bene va bene va bene e Andreas di certo un uomo che ha frequentato la stessa università di Martin Lutero avrà qualche riflessione da condividere sulla sua opera certamente da dove cominciamo è giusto che rispetti le richieste del padre Abate alla sua mensa mio signore questa è la cosa oratoria rimane in silenzio mi ha messo davvero in una posizione difficile vediamo cosa suggeriscono perché non partecipare al dibattito avvicinerebbe a tutti la comprensione della verità questo è Socrate Beatrice dice sarebbe assaggio rispettare l'autorità dell'Abate e declinare devo restare in silenzio non vedo cos'altro fare questo è a quanto pare il nostro pensiero diavolo l'Abate se non riesce ad affrontare qualche critica non è degno di sedere a questa tavola praticamente abbiamo due sì e due contro tuzzichiamo perché l'Abate si infiurebbe con me ecco perché questa è l'obiezione di Andreas vabbè ok ti dà la possibilità poi tu decidi io sono curioso non lo so cosa facciamo mi sa tanto che questa sarà ricordata certamente da dove cominciamo è giusto che rispetta le richieste rimane in silenzio o non mi sembra sensato perché credo che lui alla fine insisterà qua in teoria penso che saremo convincenti visto che fa parte dell'oratoria c'è il simbolino dell'oratorio vuol dire che in teoria dovremmo a zittire il barone no però io sono troppo curioso certamente dove cominciamo mi era ricordato ma stiamo per finora abbiamo trovato già no mi incuriosisce più il barone a me in effetti per questa run diciamo poi non so se se ne farà un'altra perché comunque gioco un po' lentino quindi non lo so però per ora mi interessa il barone stavo dicendo un'altra cosa per ora sono già una decina forse di cose che si ricorderanno l'avviso verrà ricordata per me è già uscita sette otto volte almeno una roba del genere però per ora non sappiamo ancora cosa ha comportato perché per ora non mi sembra che abbiamo mai visto nessuna conseguenza dunque ah un dibattito eccellente perché non iniziare dalle 95 tesi ok fatti tu le elenchi tutte basta così ah 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 ti ha già fermato Andrea se avessi avere più giudizio tanto mi sta sulle palle questi qua mi sono tutti su tutti e due uno peggio dell'altro ferenche e labate ma non è Rothvog siete nostro ospite e abbiamo grande considerazione di voi ma adesso abusate della mia pazienza aveva detto che si ricordava quando noi cioè noi abbiamo detto che ci piaceva Lutero e lui era uscito scritto che era una cosa che veniva ricordata non discuterete dell'opera di Lutero con Andreas con Thomas con Matteo né con nessun altro fratello può essere sì sono stato chiaro dire di sì padre questa è la vostra pazia ma ritengo la vostra reazione eccessiva avete troppo paura del cambiamento che venga da Lutero o da qualcun altro una riforma inevitabile per la chiesa fareste meglio ad accettarlo ma lui è conservatore c'ha tutto il diritto per certi versi cosa? né voi né Martino Utero dettate il futuro della Santa Chiesa a vostro piacimento questo discorso è ben più che ingiurioso è blasfemo oltraggioso non è che muore non è che è il barone che muore adesso che sia come vi permettete capisco adesso c'è c'è il vino avvelenato ho esagerato e temo di aver arruinato la Cina di tutti i presenti vi chiedo scusa però in teoria dovremmo avere essere andati in simpatia nonostante questo evento spiacevole terò fede al pagamento del mio manoscritto e donerò la mia coppia dell'istoria Tassiae se riuscite ad accettare ciò che il futuro è in serbo forse è il momento di venire a patti con il vostro passato bene non serve a chi mi trattenga più del dovuto padri fratelli Andreas buonanotte perché Andreas perché gli hai risposto non me lo aspettavo da te non mi conosci bene ora devo chiederti di andare via così che io possa conferire in privato con i fratelli nella sala capitolare che è quella che abbiamo visto con tutti le sedie biancate fratello Piero ti prego di accompagnare Andreas fuori e non sei fratello Piero però mi congenerò anch'io buonanotte anche qua bisogna avere la pazienza di rigiocarlo e vedere cosa cambia però è sulla lunga distanza che in teoria ci sono dei cambiamenti comunque non preoccuparti di padre Greno e del barone domattina sarà già tutto risolto padre Greno spero che il padre Abate riesca a capire che il barone ha buone intenzioni anche se ha scelto il momento sbagliato per esprimersi in realtà l'ha fatto apposta perché voleva secondo lui avrebbe voluto la discussione di gruppo sembra improbabile penso che il barone dovrebbe scusarsi se vuole essere perdonato allora mi sembra improbabile che cosa spero che si riferisce al fatto che padre Abate riesca a capire che il barone ha buone intenzioni sì in teoria mi sembra improbabile esatto quello che penso anch'io comunque forse hai ragione ma non dobbiamo mai perdere la speranza mamma in ogni caso spero che il barone riesca a rispettare le richieste della Abate finché è qui per il bene dei tutti fratello Piero cosa pensate all'idea di Martino Lutero ah rispetto a uomini più giovani e saggi di me discuterne io sono solo un monaco Dio se l'ho dato buonanotte figli uomo eh 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 molto facile così eh dormi con con pietà una cena problematica mi conviene dormire un po' se si ha dribblato proprio la domanda eh torniamo a casa quindi penso di sì eh allora pagina ecco lì dormi la fattoria appunto santuario di santa sazia vecchia miniere di sale carbonaio sembra un gioco lungo a parte perché perché stiamo parlando anche parecchio però aspetta c'è una lampada ancora accesa nella foresteria c'è il ragazzino Lorenz deve essere ancora sveglio chissà come sta ma no ok la foresteria è chiaramente la diciamo così la casa la casa degli ospiti alla fine perché chiaramente non possono dormire o perlomeno non possono dormire nel monastero sì perché è una chiacchierata tra noi alla fine però dipende sempre da come uno prende queste cose no cioè ognuno è fatto diverso cosa aveva in mente è un barone ma non poteva certo aspettarsi che quel piano nasse buon fine tempesta non sembra avere alcuna intenzione necessare a breve sarà meglio tornare dai Gertner in realtà mi sembra che mi ha invitato ad andare a parlare col barone ah è chiuso si è chiuso a chiave eh a paura dell'omicidio è di qua no probabilmente non è di qua aspetta cos'è un fantasma oh hai visto hai visto tu in cima tutto bene maestro mal credo di aver appena visto la manifestazione fisica di uno spirito guarda occultismo guarda qua insegnato come occultismo cioè quindi se non sceglievamo questo non proviamo a scrivergli questa il fantasma il fantasma come normale no eh sì potrebbe essere un romano forse anche un antico pagano sembrava che avesse la gonna in realtà non serve la prima volta che qualcuno vede dei fantasmi da queste parti allora è molto strano intendo dire metti che non è un fantasma ma una donna un uomo quello che è che ci faceva sull'acquedotto tra l'altro appunto ha dovuto saltare perché è spezzato bisogna capire dove porta l'acquedotto se porta se è una specie di uscita dal monastero non credo fosse un fantasma vorremmo rispondere di quella sono d'accordo penso aver trovato l'ultima peccora smarrito di joan torno a casa abbi cura di te maestro maver buon notte til Matteo dice un fantasma non salta hai anche ragione iris stupendi questo le figure di questo santuario di San Cristoforo sono davvero belle la foresta cioè siamo là no in teoria carbonario dobbiamo andare alla foresta secondo santuario sensate cascate un'incisione di Santa Sazia sembra piuttosto antica basta marcia è piena di insetti e non c'è da stupirsi che Otto non l'abbia tagliato credo che l'acqua dalla cascata provenga dallo scioglimento delle nevi sui monti che sovrastano la bazia bravo bravo caspita vecchia miniera di sale esploriamo un secondo dato che ci siamo tanto il tempo non passa realmente vecchia miniera di sale di Tassing la fonte di ricchezza della città prima della creazione della via imperi mi domando se accadrà qualcosa in questi luoghi perché poi non vorrei trovarmi per ora sai cosa mi sembra si perché dice che fluttua non salta hai ragione casa dell'ercio la maggior parte di questi alberi abbattuti e destinati ai lavori di ristrutturazione e al riscaldamento dell'abbazia la città può solo raccogliere legna piccola stavo dicendo per ora la sensazione di trovarsi di fronte a una specie di wind waker poi tra l'altro l'hanno fatto anche su 3ds un gioco simile ma non si chiamava come si chiamava poi non mi ricordo nel wind waker mi ricordo ma già lo sapevo lo davo per scontato mi ricordo che il fatto che loro avessero detto ah ma tu puoi navigare per il mare per l'oceano davo per scontato che in realtà era tutta una specie di promessa cioè questi ti stavano vendendo non dico fumo ma una grossa promessa ti facevano sognare automaticamente sapevano che nel momento in cui ti dicono ah ma tu andrai per il mare automaticamente sapevano che il giocatore avrebbe immaginato chissà quale avventure chissà quante isole visitabili piene di puzzle eccetera eccetera in realtà poi maggior parte delle isole erano per accogliere le rupie e quelle principali erano collegate appunto alla storia principale ed era poco e niente quindi anche qua voglio dire c'è la miniera là sembra che ci fosse l'apertura per entrare giù nella miniera mentre noi lo stiamo giocando così e dice eh chissà quanto contenuto chissà accenderemo accenderemo ma però secondo me no secondo me ma allora sicuramente delle stanze del monastero sono lì perché ci devono essere non credo che tutte avranno qualche cosa però boh non lo so vedremo io sono speranzoso però conosco i miei polli come si dice chiesa e casa dei druker appunto di solito non è così oh no oh cosa sta succedendo cavallo palido cavallo palido ancora sul pavimento cosa sta delirando ehi là va tutto bene aspetta rimane in silenzio Natio mattutino mattutino il cavallo palido morto ora canonica corrispondente alle due viene usata per la preghiera notturna e si chiama mattutino sorella ascolta la mia voce mi senti no io volevo rimanere in silenzio perché magari potevamo vedere se si riusciva a entrare di nascosto magari beccare qualcosa sul fatto invece no è arrivato Thomas mi senti si appunto abbiamo appena beccato il fantasma e adesso anche una che a quanto pare ha una visione o una pazza non so si beh però è venuto a rispondere si padre vi sento sono qui aspetta sono qui col punto di domanda però ci sono non ci sono in realtà appunto quel fantasma sembrava avesse una gonna ma era una suora ma che ci fa sull'acquedotto come fa ad andare sull'acquedotto è perché c'è andata sull'acquedotto ed è ora ora di che cosa della punizione la punizione carnale cos'è si sei con noi ed è ora tra parentesi tra parentesi ci sta narrativamente che si parta tutto sommato in tranquillità e poi salta fuori gli altarini salta fuori io non so se te l'avevo già detto ma per me è un paradigma cioè nel senso è proprio un esempio importante c'è uno uno scrittore che si chiama Milan Kundera lui c'è coslovacco c'è coslovacco è noto per l'insostenibile leggerezza dell'essere che è stato il suo libro più famoso ma secondo me assolutamente non è il più significativo in realtà io ho letto praticamente tutto di lui non è che abbia scritto mille libri ma tuttora il libro che io considero il migliore il più riuscito eccetera è proprio il primo che si chiama lo scherzo che è corale cioè è bello perché quando tu lo leggi ci sono diversi punti di vista a seconda del libro esatto dopo ne parliamo è corale per cui non so all'inizio parla e se non mi ricordo i nomi metti all'inizio parla Marco poi parla Maria che a volte vedi le stesse situazioni da punti di vista diversi ok quello che colpisce di quel libro lì non è solo che comunque è scritto bene questa cosa deve essere corale eccetera ma il fatto che usa un trucchetto diciamo così da scrittore che consiste nel fare contrapporre quello che chiamo chiari e scuri cioè magari nel seguire la storia stanno avvenendo avvenimenti allegri addirittura normale o allegri addirittura a quel punto lui ti tira la mazzata cioè ti tira fuori un dramma ti tira fuori un problema grosso e il fatto è che prima ti abbia messo una situazione leggera addirittura allegra eccetera e poi il dramma fa apparire il dramma più profondo lo intensifica in questo senso io intendo dire chiari e scuri no? è come un quadro noti di più lo scuro se è sul bianco no? però c'è stata la fase preparatoria prima no? come può essere che succederà adesso noi tra l'altro ci siamo dilungati molto perché stiamo andando lentamente dovendo cioè visto che sto commentando eccetera probabilmente ci avranno piegato anche la metà del tempo assolutamente se avessimo giocati da sole però però c'è stata una fase preparatoria molto probabilmente no? in cui comunque noi abbiamo recitato siamo stati comunque abbastanza impertinenti eccetera eccetera abbiamo visto già comunque dei caratteri in contrapposizione no? anche dei tre monici eccetera però può darsi che adesso arrivino le cose più inquietanti non le cose più che come diceva anche Matteo dice che è proprio la cosa più inquietante di questa epoca era quella diciamo una specie di seconda faccia che aveva la chiesa mettiamola così però vediamo perché chiaramente fa parte della narrazione no? c'è uno scritto non so se avete mai visto ma esistono per esempio i corsi di scrittura creativa viene chiamati e ci sono o comunque ci sono libri anche sulla scrittura e quindi ti parlano di incipite ti parlano del del climax ti parlano cioè ti spiegano come rendere interessante una storia e quindi credo che anche questo visto che è stato ben considerato abbiamo una situazione del genere no? quindi per ora abbiamo fatto come dire il prologo e poi dobbiamo arrivare per forza alla ciccia comunque mi dispiace Andrea se deve essere stato piuttosto inquietante infatti sta bene si sta bene suora Malì è una mistica ok quando Dio lo ritiene opportuno le fa avere delle visioni anziché poi all'epoca che c'era un mistico un visionario importante William Blake si si chiama William Blake mi pare che ha scritto che ha scritto cavolo anche lui era un visionario comunque e mistico alcune sono più spaventose di altre non so se del 500 però è un personaggio famoso puoi cercare William Blake Black è scritto B-L-A-K-E potete sbagliarmi il nome potrei sbagliarmi il nome però cosa ci fa lì dentro vive nella chiesa quando tempo è qui chiediamo questa si vive lì mi sorprenda che non l'abbiate mai notata prima se veniste a mensa più spesso vi accorgereste che le do la comunione attraverso una finestra che comunica con la sua cella mi dici cosa che ha scritto paradiso e inferno forse quello che mi viene in mente a me posso cercare paradiso e inferno piuttosto la sua cella è una anacoreta un'eremita religiosa talmente davota a Dio da vivere reclusa in una cella adiacente alla chiesa adesso qua ci sta giustamente mostrando gli estremismi estremismi che hanno dell'epoca perché in realtà non era solo questo in teoria non so se ci sono più oggi ma per il mondo è come morta ma conduce in esistenza basata sulla preghiera e la contemplazione religiosa e a volte molto raramente la tigre a Londra no no non è lui allora provo a cercare paradiso e inferno cavolo ho un vuoto di memoria era originale di Tassin o era una suora di Kershaw nessuno delle due cose è arrivata qui da una bazzia benedettina dalla bassa ma perché la seconda S la scrivono così sembra la F basfa sembra che ci sia scritto John Kahneman Stephenson ma no ma no adesso sono troppo curioso quindi voglio vedere anche vuoi vedere se trovo quello che intendo dire io ah ok no appunto mi confondevo William Blake è il pittore e ha fatto anche lui dire cose mistiche un caos si chiama quella di che dico io appunto l'arte di William Blake visionaria profetica e libera un caos si chiama quello che intendo dire io però mi sembrava questo non so come cercarlo era comunque un so che era un mistico è stato un mistico e visionario importante rimbo no di sicuro parla sempre di William Blake non so visionario artista e poeta profeta non so in questo momento cavolo non mi viene in mente e dopo che questa è stata incendiata sono il suo confessore e custode molte anacorete tra l'altro l'anacorete se non sbaglio è una figura che c'è dentro in Darkest Dungeon mi sembra mi sembra che sia uno dei personaggi di Darkest Dungeon non sanno leggere né scrivere io registro le sue visioni affinché siano più facilmente interpretabili so che tutti i monaci le suore di Kershaw sapessero leggere anche il povero fratello Volkbert Volkbert quale che non abbiamo più ah eh sì quel tipo lì quello che sembrava ancora più basso dell'altro di Mathieu grazie padre Thomas ora devo riposare ripetuto grazie padre Thomas ora devo riposare cos'è questo sorella ha sottolineato la a ah guarda che la prima volta abbiamo la medicina ma che stia soffrendo molto bello che ce l'ho io però ho quel libro lì tra l'altro da qualche parte quello che sto dicendo io però ma per me è ancora William Blake comunque era un pittore ma era nel senso che dipingeva anche le visioni che aveva ma non non era un pittore principalmente comunque è così prova un grande dolore sia fisico sia spirituale il dolore spirituale sì appunto è William Blake quanto pare il dolore spirituale deriva dalle sue rivelazioni vanno e vengono io tento di affrontarla cercare dei libri ma è quelli che hai detto prima di quelli che hai detto prima non mi sembrava nessuno comunque il dolore spirituale deriva dalle sue rivelazioni vanno e vengono io tento di affrontarla nel migliore modo possibile il dolore fisico deriva da una deformità della spina dorsale e dai problemi e le articolazioni che ne derivano ecco tra l'altro questo discorso qua non è non è difficile cioè a volte queste persone qua erano davvero sofferenti fisicamente e nella sofferenza e nel dolore avevano poi le visioni se non ricordo male che alla fine è come dire il dolore arrivava a un apice in cui poi tra virgolette il cervello si scollega perché perché non può sentire quel dolore quel dolore lì per sempre e a quel punto lì hanno delle visioni questa cosa qua è penso che sia abbastanza corretta non conosco alcuna cura per questo se non rivolge le mie preghiere all'onipotente fora ma lì dice aver avuto una visione di morte che qualcuno sia in pericolo o no non giungere a conclusioni affrettate le sue visioni sono divine e potenti ma potrebbero avere molti significati per cui cioè detta così come vuol dire potrebbe non voler dire niente basta sembrano i deliri di una persona sofferente in cui tu dici che forse hanno qualche significato ma se va bene tutto e niente o potrebbero non volere niente come dire che non ha nessun valore alla fine cioè perché è un conto è un conto come dire hai dei riscontri io in conto non ce ne hai sì poi cioè tra un po' voglio dire se vivi ma scusa ma quel buco questo qui buco qua vicino alle galle ai piedi di Thomas cos'è per fare entrare i topi cos'è per fare entrare i topi cioè non lo so cosa serve cosa serve quel buco oppure no no non credo che lì ci sia come dire il bagno sì tra l'altro già è sofferente la chiudi in una cella le visioni sono l'unica cosa per uscirne però allo stesso tempo in realtà hanno delle cioè soffrono anche quando hanno le visioni per quello che lui ha detto che è anche spirituale no alcune delle sue rivelazioni richiedono anni per essere comprese ok domanda l'hai mai comprese qualcuna? e alcune potrebbero non essere mai comprese se è questo che Dio vuole Nostradamus in ogni caso la discussione a cena è stata piuttosto preoccupante può darsi che abbia gettato un'ombra sui nostri pensieri oh mamma ascolta vai a pregare e spera che ti tolga questi pensieri comunque pare che la nostra cara sorella si sia riaddormentata ed è ora che anch'io mi prepari per andare a letto buonanotte Andrea quel sorriso lì è un po' buonanotte padre mulino non abbiamo ancora visto un mulino grazie a tutti